ciao a tutti eccoci di nuovo nella mia cucina oggi prepariamo il filetto alle nocciole questo piatto semplicissimo sviluppa e racconta gli aromi sentori e la tradizione di una parte del piemonte abbiamo il filetto di maiale prodotto dalla louisette di ferrere monferrato le nocciole che sono monferrine e langhette il vino il vino questo è un vino magnifico in una bottiglia strepitosa questo vino arriva dalle langhe tutti questi sapori insieme raccontano la nostra storia raccontano il nostro territorio e raggruppano in sé i sapori della nostra vita quando io poi cucinerò questo filetto e sarà pronto per essere impiattato lo accompagnerò con polenta che ho preparato anticipatamente una polenta otto file anch'essa del piemonte anch'essa è una è una storia del nostro territorio perché noi qui in piemonte siamo molto bravi a lasciarci suggestionare i sapori che noi abbiamo sono veramente strepitosi questo piatto è semplicissimo ma è estremamente intrigante e interessante per i sapori che si sviluppano tra di loro accompagnati da un buon vino e da un buon bere e un'esperienza sensoriale eccezionale se necessario sgrassatelo se non lasciatelo così esattamente come e considerate due fette circa a commensale quello che avanza e per gli affamati se qualcuno è un po più goloso mangia un po di più ecco il profumo di nocciole sta alla carne di maiale come le api sui fiori dopo averle passate nella farina aggiungeremo il trito di nocciole quello un po più grossolano ma serve per dare una curiosità questo è un piatto direi perfetto perché oltre ad essere salubre e pieno di principi nutritivi importanti per il nostro benessere è buonissimo e preparare un filetto in questo modo cinque minuti metto il burro per preparare i filetti è abbondante abbondante perché comunque sia le nocciole sia la cottura stessa lo assorbe un po' allora noi per evitare che venga assorbito tutto e si consumi aggiungiamo anche un po di olio di oliva che così impedisce al burro di bruciare devono cuocere annegando leggermente nel condimento in questa preparazione il pepe è fondamentale perché esalta i diversi sapori il sale favorisce appunto l'eliminazione da parte degli ingredienti dei liquidi e allora io lo metto solo a fine cottura anzi quando è in piatto ecco il burro sta inviondendo e i nostri medaglioni stanno cuocendo io cuocio sempre a fiamma alta ma è veramente un piatto estremamente semplice molto molto elegante e molto saporito ed è veramente una rappresentazione del nostro territorio perché questo è tutto piemonte la cottura ultimata spengo la fiamma e impiatto ed ecco il nostro filetto alle nocciole pronto è una meraviglia di profumi e all'assaggio sentirete poi dei notevoli sapori buon appetito